Questi ragazzi qui ci hanno detto che c'è una bomba nella macchina, loro non telefonavano perché avevano paura, l'ho fatto io, da cittadino onesto, ho creduto di fare questo lavoro, tanto è vero che mi hanno ringraziato loro. Mi ha fregato il fatto di aver visto questo timer lì, poi per fortuna si è rilevato niente di fatto, era solo quello.